Il senso è questo, cioè per carità non basta solo la professionalità, ci vuole anche questo respiro direi che è dato dalla preghiera, dalla fede, da riferimento a Dio e con intendimento che persegue la nostra commissione. L'Arcivescovo di Trieste, Monsignor Giampaolo Crepaldi, sintetizza così le iniziative diocesane in occasione della giornata mondiale del malato, realizzate con la collaborazione della Commissione per la Salute intitolata Marcello Labor. E proprio alla figura complessa del medico di origine ebraica, divenuto poi sacerdote, sarà dedicato, mercoledì 6 febbraio, un incontro in programma nell'Aula Magna di Cattinara. Lunedì 11 febbraio, nella chiesa della Madonna del Mare di Piazzale Rosmini, Monsignor Crepaldi celebrerà una santa messa, al centro della quale vi sarà il messaggio di Papa Francesco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi la pubblicazione di un libretto di preghiere curato dal professor Gianfranco Sinagra, preghiere nella malattia e nella prova, che raccoglie testi nuovi ed antichi, scritti da pontefici, santi ed altre personalità. La pubblicazione, che si può richiedere in curia, così come nella sofferenza la carezza di Gesù, si rivolge anche a chi lavora a contatto umano con i malati. C'è una sezione specificamente dedicata del libretto all'infermiere, al medico, all'operatore sanitario, che viene in qualche modo supportato nell'attenzione che deve prestare alle persone sofferenti, nell'indifferenza alla quale deve resistere quando ci si trova nei luoghi di sofferenza e nella connotazione umana di carezza, di ascolto, di conforto, che dobbiamo saper dare alle persone sofferenti anche per rilanciare nella prospettiva della luce, della salvezza e della speranza il soffrire.